Avete mai pensato di portare nelle vostre fotografie degli effetti cinematografici spettacolari? Nel corso di questo video vado a farvi vedere una soluzione molto pratica per ottenere questo effetto senza dover acquistare una strumentazione cinematografica dedicata. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e video per lavoro e quindi su questo canale vi porto la mia esperienza in maniera tale che vada a beneficio di tutti quanti. Come saprete, se avete seguito i video precedenti, abbiamo parlato di fotografia notturna con i filtri e in particolare abbiamo collaborato con KNF Concept che mi ha mandato una serie di filtri che ho non solo recensito con grande piacere ma che ho anche messo lì da parte nel mio zaino e quando mi servono posso tirarli fuori e utilizzarli e a questo punto ho un bel carnet di soluzioni per portare della creatività in più in tutti i miei shooting. Nel corso del video di oggi vi faccio vedere un ulteriore filtro sempre di KNF Concept che è questo qui e lo so, voi direte, così non capiamo che cosa fa. Prima di andare a vedere come si comporta questo filtro io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto così non vi perdete i prossimi capitoli. Andiamo a vedere che cos'è questo filtro e che cosa fa. Io cerco di farvelo vedere, chissà se ci riesco. Ok, credo che riusciate più o meno a vederlo, non so se riuscite a vedere che questo filtro ha delle righine azzurre. La cosa interessante è che KNF Concept propone questo filtro in due colorazioni diverse quindi abbiamo l'azzurro che è quello che ho scelto io e poi abbiamo l'arancione o il dorato insomma, chiamiamolo come vogliamo. Oggi io vi faccio vedere solamente questo filtro e andiamo a vederlo in un contesto particolare. Siamo infatti nello showroom di uno dei miei clienti, vi lascio link e riferimenti in descrizione se volete andare a vedere di che cosa si tratta. Queste sono immagini realizzate ad alcuni prodotti dell'esposizione utilizzando appunto questo filtro di KNF Concept. Avrei potuto farvelo vedere in esterna, in notturna, sui fari delle auto e avremmo avuto un effetto cinematografico alla Fast & Furious per intenderci. Ma invece ho deciso di fare qualcosa di diverso e ve l'ho fatto vedere in uno shooting vero che ho fatto presso l'atelier di un cliente. Come potete vedere qui abbiamo delle luci LED che si prestano molto bene all'utilizzo con un filtro come questo perché ogni singolo punto luce si trasforma in un filo di luce. È un po' l'effetto che siamo abituati a vedere in certi film d'azione, sapete, quando passano le automobili e vediamo questi fasci di luce prodotti dai fanali delle automobili. Ebbene, quell'effetto si ottiene in due modi o utilizzando delle lenti anamorfiche, un'ottica di tipo particolare molto impiegata nel cinema c'è un trucchetto per quanto riguarda il rapporto di riproduzione dell'immagine che viene un po' falsato nel cinema per ottenere appunto un effetto particolare e queste ottiche hanno come difetto, come effetto collaterale il fatto di produrre questi fasci di luce questi punti luce molto molto presenti che tirano fuori dei flare molto invasivi. Ora, noi senza dover comprare un'ottica cinematografica, un'ottica anamorfica che poi, attenzione, il più delle volte è un'ottica con la messa a fuoco manuale quindi non comodissima da usare per noi che siamo abituati a focheggiare in automatico, a lasciar fare tutto alla macchina inoltre sono ottiche di solito molto costose a meno di non prendere quelle di fascia molto bassa quindi quelle magari di terze parti prodotte in Cina o cose del genere a meno di non prendere quelle, sono delle ottiche molto costose quindi una soluzione come questa è abbastanza cheap rispetto a quello che dovremmo fare se volessimo fare tutto in maniera diciamo classica con un filtro come questo riusciamo appunto a ottenere un effetto che io chiamo cinematografico insomma chiamiamolo un po' come vogliamo è un effetto che ci permette di dare un look nuovo alle nostre fotografie e come potete vedere io lo utilizzo anche in dei contesti magari un po' impropri perché questo non è pensato chiaramente per fare fotografia di prodotto però come vedete può aggiungere un po' di pepe anche semplicemente a una fotografia di un prodotto in esposizione possiamo chiaramente giocare con l'orientamento del nostro filtro per ottenere effetti diversi io vi dico che mi sono divertito un sacco a cercare l'orientamento giusto in ogni fotografia è stato da un lato divertente dall'altro tiri fuori delle immagini che comunque sorprendono perché uno non se l'aspetta e se ci fate caso vedete che queste cose io avrei potuto farle anche in post produzione è una cavolata io potevo mettermi lì e a ogni punto luce prendere un overlay di un flare già fatto e metterlo sopra è lungo ragazzi diventa seccante soprattutto diventa seccante e lungo se abbiamo fatto tante foto se ne abbiamo fatta una amen ma se abbiamo fatto 100 foto 200 foto 1000 foto di quella scena lì poi andare a mettere i flare su tutte diventa veramente un pasticcio anche con l'intelligenza artificiale si tratta comunque di lasciare il computer che stia lì a pensare per diverse ore per finire una lavorazione di questo tipo quindi secondo me è molto meglio farcelo direttamente in macchina oltre che più soddisfacente e più professionalizzante in fin dei conti perché il mio lavoro il lavoro del fotografo in generale ma anche semplicemente il nostro divertimento per chi non lo fa di mestiere non è tanto dire io la butto lì e poi a casa tanto ci pensa il computer no la cosa divertente e la cosa professionalizzante quindi su più livelli ma la cosa giusta da fare secondo me è trovare la soluzione in macchina anche perché ci costa meno tenete conto che un filtro come questo è sostanzialmente indistruttibile cioè a meno che non lo lasciamo cadere dal quinto piano non lo dovremo mai sostituire è anche a prova d'acqua quindi lo possiamo anche sciacquare io l'ho preso in un diametro di 77 mm esistono poi gli adattatori quindi io potevo prendere un 82 mm e poi con gli annelli adattatori potevo usare lo stesso filtro su tutte le mie ottiche quindi anche questo è vantaggioso io posso prendere un filtro solo e poi usarlo su tutte le mie ottiche che io abbia un 67, un 52 posso usare sempre lo stesso filtro i filtri non scadono mai quindi io cambio corredo, cambio ottica, cambio brand di fotocamera il filtro va bene comunque sempre quindi secondo me sono dei piccoli investimenti non è che abbiano chissà quale valore a livello economico però aggiungono sicuramente un valore alle immagini, alle riprese che facciamo e in ultima istanza un'altra cosa in cui sono molto utili secondo me è proprio il video perché se in fotografia è pur sempre vero che io posso aggiungere degli effetti in postproduzione che francamente non c'ho più voglia, io sono stanco preferisco avere un qualcosa con cui dico ho la foto pronta piuttosto che dire adesso facciamo le foto e poi mi devo fare otto ore di postproduzione per aggiungere i baglioli, ma non c'ho più voglia ragazzi preferisco qualcosa che me li fa già giusti e con cui posso controllarli e farli esattamente come voglio ma voi immaginatevi invece in una ripresa video quello sì che sarebbe disastroso dover aggiungere questi effetti in postproduzione in un video in questo modo io posso averli subito, direttamente già baked in, come si dice, fritti nel mio file quindi non posso più toglierli attenzione, se ho sbagliato non li togliamo più questi la foto è fatta così, il video è fatto così però in una ripresa video dove io so, ho deciso, c'è una production design per cui abbiamo deciso che il design della produzione deve essere quello si fa con il filtro e abbiamo già il file pronto e questo ci avvicina al risultato finale togliendoci ore e ore di postproduzione quindi io come sempre vi lascio tutto quanto in descrizione link, riferimenti vari spero che questo tipo di strumentazione continui a incontrare il vostro interesse io l'ho trovata molto divertente fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate fatemi sapere se ci sono dei filtri di KNF Concept che volete che io provi per voi e vi dico già che ho qui da testare uno dei loro polarizzatori circolari però fatemi sapere se ci sono filtri che non mi hanno ancora mandato che vorreste vedere recensiti siccome abbiamo un buon rapporto stiamo tirando fuori una bella collaborazione credo che se mi fate delle domande su filtri specifici che ancora non ho potrei avere la possibilità di chiederglieli e molto probabilmente consentirebbero a mandarmeli perché io ci faccia un video recensione signori a questo punto come sempre io vi do spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere se vi piacciono gli effetti cinematografici se utilizzate abitualmente filtri se avete già questo filtro o appunto se ce ne sono altri su cui siete curiosi io e KNF Concept vi diamo come sempre appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie per la visione!